Allora, Nunzia si è laureata alla Federico II e questo lo dice con molto orgoglio perché la Federico II degli anni 70 più o meno era una delle università più importanti e più valide di tutta Italia, quindi sono molto contenta di essermi laureata lì. Dopodiché naturalmente ho cominciato la strada che ho sempre desiderato fin dalla nascita che è quella di fare insegnante. A quei tempi non era difficilissimo, quindi si faceva qualche piccola mese, due mesi in qualche istituto, però poi si aveva l'incarico a tempo determinato per tutto l'anno e poi determinato. Ho girato l'Interland napoletano all'inizio, quindi paesi molto difficili, Casoria, Caivano, fratta maggiore, fratta minore, eccetera, eccetera. Nel frattempo sono sposata e poi mi sono trasferita al Giordani dove ho fatto la mia prima esperienza letteraria, stranissima, di teatro. Perché il Giordani è un vecchio istituto gesuita che ha sotto un teatro grandissimo, un po' ormai non c'è più, però insomma un bellissimo teatro e questo mi ha un po' ispirata, per cui poiché era l'anno in cui stavo facendo quei ragazzi goldoni, mi venne l'idea di scrivere qualche cosa sulla storia della canzone napoletana. Quindi cominciai a scrivere una specie di canamaccio, come si voleva dire, anche perché volevo i ragazzi liberi di dire quello che volevano, quindi avevamo un gruppo fantastico fatto di tutte le classi, dalla prima alla quinta, fatta di naturalmente ragazzi che sapevano suonare, che sapevano cantare, eccetera. In questo canavaccio in mano abbiamo, ecco, la mia prima opera letteraria è proprio un'opera teatrale sulla storia della canzone napoletana, fino ai giorni nostri, con un intento un po' politico, siamo negli anni 77-78, andammo in scena proprio nei tempi, non dico quel giorno, ma vicinissimi al sequestro Moro, quindi in realtà era anche un periodo un po' molto, molto difficile, sia con i ragazzi che tra noi docenti, e questa è stata la mia prima opera. Dopodiché ho continuato a fare insegnanti, non ci ho pensato più, quello che ho scritto è soltanto, sono stati soltanto saggi, perché ho lasciato la scuola a un certo punto, sono andata all'università, all'università ho collaborato con la Sapienza di Roma, ho collaborato con la cattedra della storia e della scienza di uno dei più grandi professori che Roma ha avuto, che purtroppo non c'è più, Giorgio Sabile, e grazie a questo ho scritto molti saggi. Finito, a un certo punto, proprio, veramente, mi è venuto a... mi sono scocciata, se i saggi, devo dire, non c'era un problema, perché l'università li stampava, eccetera, però comunque sia, mi sono stancata, continuavo a studiare, mi piaceva studiare, ma scrivere saggi di meno, e mi venne l'idea, invece, di cominciare a scrivere romanzi. Siamo quindi nel 2010-2011, e da quel momento in poi ho scritto sempre romanzi, e non ho smesso fino a questo momento. Il primo romanzo fu proprio quello che mi spinse verso la direzione della scrittura, perché io, in bontà dei professori che mi hanno preparato, eccetera, ho una scrittura abbastanza facile, ma anche abbastanza semplice, quindi molto... non sono... non ho una scrittura elaborata, però ho una scrittura descrittiva, quasi filmica, qualcuno ha detto, e allora mi venne la voglia, poiché io ho una famiglia molto particolare, io sono napoletana, napoletanissima, però la mia famiglia non è di Napoli, mia nonna, mia bis bis nonna, è nata in Francia, il mio bis bisavolo invece è nato a Carunchio, ed era ingegnere. Si sono sposati, lui ha avuto la direttiva dalle varie società che c'erano in Asia, in Africa, eccetera, di costruire ferrovie. Allora era il momento, si cercava il petrolio, si doveva andare di corsa, quindi la ferrovia era una cosa importantissima. Quindi lui ha fatto questa vita roccambolesca, mettendo al mondo 23 figli. Allora questa storia mi ha eccitata, per cui ho cominciato... Attualmente volevo sapere se la cosa era vera, perché è chiaro che io sono una storica, e per cui per me i documenti e le testimonianze sono alla base di una ricerca, per cui ho cominciato a fare ricerche in tutti i vari consolati dove sapevo che loro erano stati, quindi sia in Ungheria, in Serbia, in Siria, in Egitto, in Tunisia, e ho cominciato a cercare i documenti. I documenti sono usciti fuori, quindi è uscita fuori che veramente questa storia è vera, era vera, e per cui a questo punto ho scritto il primo libro che si chiama Chioccio le vagabonde, che ho intenzione di ripubblicare, tra un po', riscritto, ricostruito, anche perché fondamentalmente io ho parlato della storia di mia madre, quindi tutta questa enorme famiglia che si viene formando intorno a questo capostipide femminile che Ernestine si cree, e voglio, perché già l'ho fatto, inserire anche la vita della famiglia John Friddo, cioè di mio padre, che avevo un po' messo da parte. E questo è stato il primo libro che, devo dire, ha avuto un certo successo, è andato anche a Francoforte, insomma, ero misconosciuta, anzi quasi, tranne come studiosa, ma ero completamente sconosciuta, però è andata bene. In tutti i libri che io ho scritto c'è sempre un intreccio tra storia è nascosta sotto le righe dell'Annunzia, questo è poco ma sicuro, cioè nel senso che non lascio mai da parte, parto sempre da un ricordo, che può essere un ricordo affettivo, un ricordo vissuto, come fatto proprio, eccetera, ma parto sempre da lì. E infatti, non a caso, gli angeli del rione di sanità sono partiti proprio dal fatto che io insegnassi nel rione sanità. Quindi, quando, dopo aver scritto tanti altri libri di questo tipo, mi è venuta, proprio mi è venuta l'idea di questa specie di nostalgia di questi anni meravigliosi che io ho passato, perché credo che tra tutti gli anni dell'insegnamento, universitari e non, i più belli sono stati proprio questi. Quindi volevo partire da lì, e non sapevo come partire, perché che cosa ci mettevo come storia in questo libro? Parlare della storia dei Gesuiti non mi attirava assolutamente. Parlare di ogni singolo studente sarebbe stata una cosa un po' che non mi attirava neanche, però era qualcosa che avrei potuto farci entrare. E allora a questo punto mi è venuta l'idea, perché in quegli anni c'era questo grande dibattito sulla resistenza del Meridione e del Settentrione, come se l'Italia fosse stata divisa in due parti, dove il Settentrione ha salvato l'Italia e il Meridione è stato lì a guardare e a non fare proprio niente. Allora a questo punto devo dire che mi sono un po' arrabbiata, e ho detto, vabbè, allora voglio vedere che cosa è successo, se è vero, quindi ho cominciato a studiare tantissimo. Io studio proprio, questa è la base del, prima ancora della memoria, proprio lo studio. Quindi ho cominciato a studiare e a leggere moltissimo. Prima ancora che uscisse il famoso libro sulla resistenza del Meridione, io ce l'ho già arrivata, grazie a dei colleghi, professori dell'Orientale di Napoli, sui cui libri io mi ero preparata. E là ho scoperto che in realtà tutto quello che finora era stato detto, il famoso discorso, le quattro giornate di Napoli, sono nient'altro che una ripetizione del Masaniello che si ribella, eccetera, eccetera, e con Napoli e tutti i paesini intorno, era assolutamente falso. Non era quella la lettura. Quindi mi sono messa in contatto con l'Istituto della Resistenza, mi sono messa in contatto con l'Archivio di Napoli, mi sono messa in contatto con tutti gli enti che avevano fotografie, documenti, eccetera, e quindi è uscito fuori un bel malloppo di cose da dire, che quindi hanno escluso completamente le rivolte dovute agli sconizi, le rivolte dovute solo alle prostitute, le rivolte dovute così al popolo affamato, eccetera. Ma ne è uscita invece una storia meravigliosa, che devo dire, ha avuto come ente ispiratore, chiamiamolo così, Antonio Amoretti, che purtroppo non c'è più, perché è morto poco prima di Natale, un uomo meraviglioso, un uomo che ha fatto le quattro giornate, aveva 24, no no, aveva 14 anni, quindi era piccolino, però mi ha spiegato bene perché le quattro giornate di Napoli e con lei e con loro anche tutti i movimenti del meridione non si possono considerare movimenti così istantanei, dovute al fatto che la gente aveva fame alla Masaniello, come si continuava a dire allora, ma invece erano organizzati a tavolino da persone di cultura e non di cultura, che sapevano quello che dovevano fare, che avevano deciso quando, come e dove dovesse cominciare la rivolta contro i tedeschi e infatti così è stato. Dopo poco è uscito il famoso libro e quindi io felicemente ho portato anche il libro a Milano, all'ampio di Milano, abbiamo fatto una bellissima rievocazione delle quattro giornate, però viste nella maniera storica più giusta, insomma, quindi così è cominciato. Io ho detto che nella premessa che non consideravo questo libro un romanzo storico, invece oggi ho tutt'altra idea, è un romanzo storico, perché questo è un libro dove le quattro giornate, come i fatti storici, sono seguite passo passo, fino al momento in cui Napoli, da sola, il primo ottobre, si libera senza l'aiuto degli americani. Ma proprio seguite senza neanche lasciare un momento, una strada, un avvenimento dimenticato. Ho cercato di metterci tutto quanto è possibile e quindi è uscito fuori questo romanzo e poi chiaramente dentro ci sono messi personaggi, questo è logico, personaggi veri. Diciamo che il santo protettore in assoluto è stato sicuramente Edoardo, perché in realtà comunque io mi sono imbevuta di tutte le opere che lui ha scritto, mi sono imbevuta anche di quello che ho visto a teatro, ho fatto anche degli studi approfonditi per il mio libro sulla Huckerman e quindi avendo lei lavorato molto con Edoardo quindi ho dovuto studiare bene tutte queste cose, quindi Edoardo si sente nel libro, si sente moltissimo, ci sono delle scene, però non sono solo questi, sono, io direi, più degli storici che sono molto presenti in questo libro, dai primissimi storici delle quattro giornate di Napoli ai filmati, per esempio ai film, Nanni Loi ha fatto un film molto bello, anche se in alcuni punti non è assolutamente esatto alla storia come la conosciamo oggi, però anche quello è stato un punto di riferimento. e i racconti, per esempio anche il libro La Pelle, La Pelle per esempio è stato molto importante per me, La Pelle, perché soprattutto mi stavo preparando al secondo volume, dove La Pelle è proprio, si comincia proprio questo momento terribile della storia di Napoli, quindi, e poi tutti i grandi scrittori, La Capria, Nostalgia di, per esempio molto mi ha ispirato, Nostalgia di Rea, e poi anche l'altro libro di Rea, dove si parla di un altro strano personaggio, un mafioso Omalommo, che non è lo stesso Omalommo mio, perché Omalommo mio è degli anni 50, mentre Omalommo di Rea è degli anni 70, 80, più o meno, insomma, più avanti, però questi sono, tutta la storia della letteratura italiana, io l'ho letta tutta. E lo so, quella è una cosa serana, è una cosa serana, perché in molti libri, proprio anche libri di storia, si legge Edoardo, e in molti si legge invece Edoardo, appunto, quindi sì, devo stare attento a questo, a questo, diciamo, a questa U, che dovrebbe essere sempre presente, comunque, insomma, nel parlare molto spesso, si è abituati, si esce con questa U. Allora, parliamo un po' dei personaggi. Scusate. Vai. Parliamo un po' dei personaggi. Il primo personaggio che proprio mi ha ispirato è naturalmente Beppe Barone. Beppe Barone mi ha ispirato perché leggendo su un giornale, un articoletto, ho letto il racconto di un postino, sardo, che aveva l'abitudine di, invece di dare le lettere ai destinatari, di leggerle, e quindi era stato arrestato, eccetera. Questa cosa mi ha molto, molto incuriosito, perché ho pensato che cosa può succedere a un postino del rione sanità nel momento in cui legge le lettere, e soprattutto in un periodo come quello anni fascismo, perché i libri cominciano comunque non con la guerra, ma proprio col fascismo. Quindi, questo Beppe che prende la posta, che la mette nei sacchi, che la divide, eccetera, si ritrova un giorno a avere tutta questa posta sparsa sul tavolo con lettere di vari colori. Comincia il suo sfizio e quello a dividere per colori e comincia a separarli. Dopodiché, i pacchi di colori aumentano e gli viene lo sfizio di leggerli. E allora si fa le storie più strane, immagina storie d'amore tra la direttrice del casino, che si chiama Ninetta, e il parroco del rione sanità, che si chiama Don Antonio. Quindi, varie storie strane di un certo Mariuccio, che riceve delle lettere dalla Sicilia, non si capisce perché queste lettere dalla Sicilia che cosa gli vogliono dire, lui che cosa vorrebbe dire a questi. Insomma, comincia a farsi dei vari film e comincia quindi a interessarsi alla storia degli altri, come potremmo dire col titolo del film, e alla storia proprio dei personaggi del rione. Quindi, i personaggi principali sono naturalmente Ninetta, che apparentemente è la direttrice di un casino. Dopodiché, naturalmente, secondaria, femminile, figura molto bella, che io amo moltissimo, è la moglie di Beppe. Assuntina fa la serva, usiamo un termine degli anni 40, va nelle case dei signori e quindi pulisce le case, eccetera, ed è una donna attiva, molto viva, ha due figli, uno si chiama Ciruzzo e uno si chiama Totonno. Attorno a questa famiglia ci sono altri personaggi diciamo del mondo della sanità. Quindi, dopo Don Antonio c'è la perpetua, la famosa perpetua, che è un personaggio che ho creato molto brutto, ma la conoscevo la perpetua di Don Antonio, io conosco molto bene Don Antonio, è stato uno dei miei ispiratori per questa figura, bellissima, i suoi libri li ho letti tutti, sono molto belli, Antonio Ferrante. E quindi, questi sono i personaggi diciamo principali. Poi comincia a emergere una strana famiglia dello scopatore, possiamo usare questo termine, del rione sanità, che in realtà è abituato a pulire un rione molto sporco, oltretutto molto spesso c'è c'è la lava del Vesuvio, la lava dei vergini che scende e quindi sporca tutto il rione, quindi lui è costretto e ha due figlie, una è Enzina che ha un anno e l'altra figlia invece Catarinetta che ha 16 anni. Il povero uomo ha un incidente, non direi che entriamo nel particolare, per cui Catarinetta rimane nella sua casa da sola perché la mamma lavora eccetera eccetera però diciamo guardata con un certo occhio da un mafioso del luogo e questa è una storia vera purtroppo e questa Catarinetta è una ragazza molto bella di 16 anni che sulla quale cade l'occhio di un mafioso della zona perché la zona è piena di mafia e anche qua potremmo fare un discorso molto veloce la mafia che si sta formando in questi anni non è la mafia né degli anni 50, 60, 70 ma è neanche quella di oggi diciamo che è una mafia che si sta così che comincia a usare i giovani per cercare di fare i piccoli furtarelli queste cose qua eccetera e ha come capo questo malommo che è il capo assoluto di questa mafia uno di questi di questi tizi che stanno alle dipendenze di malommo e purtroppo si innamora di Catarinetta la stupra la uccide e la taglia a pezzi i sopravvissuti della prima generazione sono quelli adulti usciti dalla guerra quindi Beppe e tutti quelli che non sono morti infatti Beppe è rimasto in coma per molto tempo non è morto per fortuna esce fuori dal coma e ricomincia la sua vita di postino però ce ne sono anche gli altri quindi noi degli adulti e parliamo degli adulti anche con le difficoltà di questi adulti e delle donne in particolare perché in realtà questo è un momento in cui le donne erano sono state delle grandi eroine durante le quattro giornate hanno preso il fucile hanno sparato hanno lasciato il loro ruolo di casalinghe di mamma eccetera e hanno preso quasi il ruolo maschile diciamo quindi sono state le donne di grande coraggio e si trovano nel nel dopoguerra proprio 45 più o meno in in situazioni terribili perché in realtà gli uomini ancora non ci sono sono devono arrivare dal dai campi di battaglia e quindi loro devono pensare al loro grandi adulti devono pensare ai bambini e quindi entriamo nel discorso del mercato nero delle medicine che mancano della peste la terribile peste che è una pandemia che si diffonde in tutto il mondo ma a Napoli ha un un diventa una cosa una delle cose più terribile diciamo che i morti della pandemia sono tantissimi quindi è Ninetta Assuntina e persino la perpetua che sono loro che si mettono coraggiosamente a combattere queste cose poi ci sono i giovani che stanno scoprendo un altro mondo si può combattere anche facendo questi sono gli americani che ce l'hanno portato anche facendo vendendo le sigarette di contrabbando e dei due figli di Assuntina Totonno è quello che capisce che lui deve prendere il posto del padre almeno finché il padre non uscirà dal coma e quindi diventa un diciamo si accosta si avvicina piano piano a quella che poi ahimè sarà la sua rovina più tale è quella della mafia insomma la sua entrata nella mafia quindi il ruolo degli adulti è importante poi poi comincia passano arriviamo agli anni 50 arriviamo al boom economico arriviamo al momento in cui nelle case entrano falsamente ricchezza televisioni frigoriferi ma falsamente perché la gente li compra anche nei bassi pagandoli mensilmente quindi non è un boom vero economico e soprattutto un boom edilizio perché in realtà Napoli in questi anni negli anni 50 vive io penso uno dei periodi più negativi della storia politica di Napoli che è il laurismo e quindi il laurismo crea in realtà questo questo trambusto questa corsa alla ricchezza corsa alla ricchezza che poi in realtà si fermerà a un certo punto vedremo poi come va a finire questo è una bella domanda perché in realtà è vero che apparentemente sembra che ci sia una lotta tra il bene e il male il buono e il cattivo sono le vittime e invece i falchi della storia però io ho una visione filosofa sono anche una filosofa quindi ho una visione filosofica particolare secondo me non c'è una lotta nella vita non c'è una lotta tra il bene e il male diciamo che Darwin insegna che fondamentalmente c'è soltanto una voglia di sopravvivere sul più debole è una diciamo è un fatto storico è un fatto scientifico non c'è niente da fare lo sappiamo è così per cui il leone se mangia la gazzella la mangia soltanto perché perché ha fame non perché è cattivo quindi io ho letto Ann Arendt e mi ha molto colpito la sua visione proprio del male cioè il male diciamo che chiamiamolo male ma non è male la sopravvivenza è la la storia della dell'umanità da lì si parte e poi a quel punto è chiaro che c'è chi usa la sopravvivenza per abbattere il nemico e c'è invece chi lo fa solo per sopravvivere io penso che che la cattiveria ci sia un po' dappertutto e sia sempre quella a Napoli c'è noi abbiamo abbiamo qualche cosa che viene un po' dalla nostra storia noi siamo stati sempre sudditi sudditi spagnoli sudditi francesi greci insomma di quello che sia lo sappiamo e quindi il nostro la nostra sofferenza perché fondamentalmente queste sono state epoche di sofferenza al nord hanno avuto i principati hanno avuto altre situazioni noi abbiamo avuto situazioni di grande a parte Federico II che io considero uno dei più grandi principi dell'Italia meridionale però fondamentalmente il popolo ha sempre sofferto e quindi è chiaro che questa minor cattiveria dipende proprio dal fatto che si è sofferto molto sì moltissimo e ho avuto il dibattito politico per me è stato un grosso problema perché si capisce bene penso che anche dal libro si capisca che in realtà chi ha scritto questi due libri e poi vedremo anche nel terzo forse sarà ancora più evidente è una persona che è chiaro ha le sue idee non è che sarebbe disonesto dire il contrario però essendo anche una storica cerca di uscire fuori da queste sue idee e di guardare la storia invece con occhio virgolette obiettivo perché io credo che come diceva De Sante se la storia la fanno i vincitori quindi non è che poi alla fine noi oggi diamo una visione determinati fatti storici anche moderni quello che sta accadendo in questo periodo chissà fra 40 anni che cosa diranno quindi c'è sicuramente però c'è un desiderio da parte dello storico io ne conosco tanti di guardare la storia così con me e quindi io ci ho provato non lo so se ci sono riuscita ma ci ho provato una cosa è quello che mi piacerebbe che dicessero i ragazzi e una cosa è quello che dicono nel senso che io vado anche nelle scuole con questi libri ho parlato con i ragazzi e ahimè ho notato una grossa difficoltà prima di tutto nel leggerli i ragazzi non leggono io ho partecipato non so quanti anni prima della pandemia prima della sì della nostra pandemia ho partecipato a un consesso di giovani delle scuole napoletane ai quali è stato dato il mio libro in questo caso gli angeli di giovani di sanità perché non avevo scritto il secondo ed è stato chiesto loro di avere qualche riflessione di fare domande e devo dire la verità io mi sono accorta che anche quelli che facevano domande poterciò ce l'ho registrato non c'era nessuno che l'aveva veramente letto cioè in realtà ne avevano proprio guardato così le pagine ma nessuno l'ha letto c'è una grossa difficoltà a far leggere i giovani io ho usato sto usando un metodo non so se faccio bene l'ho usato anche quando insegnavo ma ci provo cioè portando un libro io porto anche immagini porto anche musica porto anche suoni parole porto cioè porto qualcosa che li colpisca pochi giovani oggi sono colpiti soprattutto dalle immagini quindi io proietto continuamente lo faccio pure con gli adulti proietto delle immagini oppure faccio sentire delle musiche musiche del tempo musiche napoletane musiche non napoletane mi rifaccio al rapporto tra la musica napoletana e il swing americano quindi in realtà cerco di attirarli verso questa musica jazz che certo non è quella che oggi amano ma che comunque può un attimo interessarli e cerco di fare operazioni del genere però devo dire la verità è molto difficile quello che vorrei e forse uscirà fuori dal terzo volume quello che vorrei che dicessero è di fare un'altra piccola rivoluzione non violenta come quella che c'è stata nell'82-84 una rivoluzione fatta di cortei di gente che grida e chiede giustizia e chiede una vita migliore per Napoli ecco forse questo mi piacerebbe che lo dicessero ma non ne ho mai sentiti non lo so non so dove è finito vedrai che va bene ok grazie a tutti